Ciaro Anzulli, vorrei partire da lei, perché qui ci sono due ordini di questioni. Un problema che riguarda la forma e secondo me dice tanto della qualità di una certa classe imprenditoriale di questo paese e della qualità delle relazioni industriali. Ma ha ragione. E dall'altro però ci dice anche una questione di sostanza. Come è possibile consentire ad un'impresa che gode di ottima salute in termini di fatturato e di ordinativi di poter lasciare da un giorno all'altro i lavoratori fuori dai cancelli? No, è inaccettabile per due ordini di ragione, le stesse che diceva lei, appunto il modo e addirittura nel merito. Quindi il modo io penso che sia assurdo mandare un sms alle 4 del mattino, il lavoro va sempre rispettato soprattutto in questo momento. Abbiamo visto quanti posti di lavoro abbiamo perso a causa della pandemia, quindi da un'azienda che peraltro è in salute, questo modo è inaccettabile. Io mi auguro davvero che il tavolo possa trovare delle soluzioni perché questi lavoratori meritano di avere delle soluzioni e meritano di non perdere il loro posto di lavoro, soprattutto in un momento come questo dove il paese è impegnato a trovare investimenti per far ripartire il paese. È stato secondo lei intempestivo togliere il blocco dei licenziamenti con l'inizio di luglio? Ma no, nel senso che non si poteva andare avanti oltranza con un blocco dei licenziamenti. Certo che non ci si aspettava questo tipo di atteggiamento perché altre aziende non lo hanno fatto, anzi o comunque hanno trovato delle soluzioni alternative. Ripeto, non si può lasciare a casa famiglie intere dalla sera alla mattina senza trovare delle soluzioni, soprattutto da un'azienda come in questo caso che ha goduto di diversi strumenti. Crosetto è lì